Giornata agrodolce in Sariedi per le formazioni abruzzesi. Non sorride la vastese, alla quale non riesce l'impresa di rimontare i tre gol di svantaggio contro la capolista Matelica, nonostante un secondo tempo di grande cuore e grinta, e vede così sfumare i sogni di rimonta proprio sulla squadra di Mister Tiozzo, che prosegue così la marcia verso i professionisti, anche grazie al palso falso della Vis Pesaro contro la Vezzano. La squadra di Mister Giampaolo fa suo all'altro match-clou della ventunesima giornata, grazie alle giocate del gioiellino classe 99 Michael Deramo, e si porta a soli tre punti dalla vastese, che occupa ora il terzo posto. Chi sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative, vista ancora i dubbi societari, è l'aquila di Mister Battistini, che con la vittoria per 2-1 sulla San Giustese, vede avvicinarsi la zona play-off, adesso distante una sola lunghezza dal quinto posto occupato dal Castelfidardo. Continua la serie di risultati positivi, invece, il Francavilla. La squadra del patron Candeloro si sbarazza per 2-0 senza non poche difficoltà dell'osti cagnonese, e con la partita da recuperare a Castel di Lama contro il Monticelli, si candida ad entrare nella zona play-off. Derby con ambizioni diverse, invece, è quello andato in scena al Mariani Pavone di Pineto, tra la compagine locale e il San Nicolò. La squadra di Mister Amaulo, con la sconfitta di domenica, può dire addio definitivamente ai sogni play-off, complice a una prestazione al di sotto delle aspettative. Chi sorride è sicuramente la squadra di Montani. L'ex mister del Francavilla, approdato a dicembre a San Nicolò, sta nellando una serie di risultati importanti e vede l'obiettivo salvezza sempre più vicino. Discorso a parte, meritano i nero stellati di Pratola. La prestazione offerta domenica contro il Campobasso non ha evidenziato la classifica che la vede occupare l'ultimo posto. Ma anzi, senza gli errori macroscopici del direttore di gara, la compagine Pellinia avrebbe potuto strappare almeno un pari in terra molisana.